Il capitano ci ha detto che potevamo anche fare di più, come è vista la partita? Sì, sono d'accordo con Fede, c'erano momenti in cui potevamo farli male perché non abbiamo sfruttato al massimo le rimpertenze e alcune occasioni, però non è facile, siamo contenti anche del punto. È stata la partita che vi aspettavate, la vigilia il mister aveva chiesto tanta aggressività, tanta cattiveria, però avete dimostrato che per oltre 90 minuti ce l'avete messa tutta, avete provato anche a Vincera. Sì, sicuramente il mister voleva questo di noi, ma noi sapevamo dove ci mancava qualcosina perché le prestazioni c'erano sempre, però mancava sempre qualcosa in più di livello di aggressività o attenzione che poi fanno la differenza. Oggi con questo spirito, con questa qualità e aggressività di gioco dobbiamo continuare così. Quanto conta a livello mentale questa spinta che avete avuto oggi? Sicuramente molto perché è un momento che dobbiamo dimostrare che non siamo quelli delle ultime cinque gare, è sempre difficile dimostrare ma sappiamo che squadra siamo perché ci vediamo tutti i giorni e quindi per prima dovevamo dimostrarla noi stessi e ora tocca anche il sabato continuare su questo e prendersi anche i tifosi in casa. Eri diffidato? Hai ripetato purtroppo la punizione che farà scattare la squalifica? Salterai la prossima partita con il Vincera? Sì sì, purtroppo ho dovuto spendere questo cartellino in mezzo al campo perché poteva nascere qualche in partenza ma come sempre a me me lo danno molto facile il cartellino anche se sicuramente non era Marco Fallo, però va bene così chi giocherà farà il massimo appuntamento. Grazie.